Carlo Conti è un conduttore televisivo, conduttore radiofonico, autore televisivo e disc giochi italiano. È stato il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo per le edizioni 2015, 2016 e 2017. Inoltre, dal 2017, è direttore artistico dello Zecchino d'Oro. Di lui, i telespettatori apprezzano il garbo e l'eleganza che contraddistinguono ogni sua apparizione televisiva. Ma anche la spontaneità con cui Carlo Conti, quando si tratta di raccontarsi ai suoi fan, non si risparmia mai dal mettere in campo. Solo di recente, il nativo di Firenze si è trovato a rispondere ad una domanda scomoda concernente il suo percorso professionale. All'intervistatore che gli ha domandato se qualcuno, nel corso della sua carriera, gli avesse fatto qualche sgambetto. Il presentatore non ha esitato a replicare con sincerità. Sì, purtroppo mi è successo, ha ammesso Conti, che non si è bloccato dall'approfondire i dettagli della vicenda. Se uno mi pesta i piedi penso sempre che non l'abbia fatto apposta. Il tempo è galantuomo. E non ha mancato, il conduttore, di spiegare quale sia stata la sua reazione dinanzi ad un avvenimento di questo genere.